E adesso Barbara cambiamo argomento perché ci guardiamo insieme all'approfondimento curato dall'amico Nico Centurame con il santuario di San Gabriele e quindi con i padri passionisti. Benvenuti nel museo della Camera di San Gabriele. Qui possiamo vedere gli oggetti che sono appartenuti o che hanno un riferimento a San Gabriele. Innanzitutto troviamo tante cose che questo museo ci presenta, sono gli ex voto che li abbiamo già visti e rivisti, ma in questa stanza hanno un tono ancora più particolare. Iniziamo con questo primo ex voto che parla di Maria Mazzarello che è una donna di isola che aveva la stessa malattia di San Gabriele e che chiede l'aiuto di una grazia proprio a San Gabriele. La quale gli viene concesso di ricevere la cinta che è stata ritrovata dopo la risumazione del corpo di San Gabriele della sua tomba e gli è stata messa ai suoi fianchi. Lei era ormai in coma, malata di tubercolosi e stava morendo. E dopo tre giorni che ha utilizzato questa cinta in preghiera, ecco che lei si sveglia ed è guarita, non ha più nessuna malattia. E qui ne testimoniano varie persone che raccontano quello che è accaduto dal giorno della risumazione del corpo, da quando hanno preso questa cinta, l'hanno data a lei per poter pregare questo giovane santo e da quest'immagine vediamo proprio il momento che lei ringrazia San Gabriele per questo dono e grazie a questa cinta che ha sentito il legame forte con San Gabriele. E poi qui accanto troviamo un grande cero che ricorda un miracolo avvenuto in Pennsylvania, in America. Questo miracolo racconta che all'interno di una grotta dove c'erano i minatori che stavano lavorando, in profondità sentono una voce dalle profondità di questa miniera, dove gli dice andate via che sta crollando tutto. Loro escono, si precipitano verso l'esterno e dietro le spalle giù le rocce che crollano giù in fondo. E in quella voce riconoscono e vedono l'intercessione e l'intervento di San Gabriele. E sono venuti qui a portare questo grandissimo cero come segno di riconoscenza per il miracolo ottenuto. Questo è avvenuto nel 1905. Poi di qua invece troviamo altri oggetti, tra questi l'ultimo che è l'emissione del franco bollo postale con l'immagine di San Gabriele e il timbro di questo riconoscimento che le poste hanno voluto attribuire a San Gabriele. Questo è avvenuto il 27 febbraio del 2002. Quindi una delle ultime cose qui presenti in questo museo che ci parlano dei riferimenti di San Gabriele. Venendo ancora più avanti troviamo questa bacheca dove ci sono alcuni oggetti. Qui troviamo la prima lettera che San Gabriele scrisse da Morrovalle al papà. Era il 21 settembre del 1856. Il papà si preoccupa della vita del figlio e gli scrive chiedendogli informazioni si è ancora intenzionato a rimanere in convento oppure uscire e tornare a casa. E lui gli scrive la lettera tra le varie cose con cui scrive dice la mia vita è una continua gioia. Eppure a casa poteva desiderare tutto quello che un giovane poteva avere. Aveva il teatro, aveva i divertimenti, aveva una vita mondana con gli amici. Eppure in quel convento dove la stanza era talmente piccola che se mettevi il letto era un pagliericcio di lana c'era una sedia e un tavolo, niente di più. E da quella stanza lui riesce a dire la mia vita è piena di gioia. Noi che abbiamo tantissimo ci lamentiamo che ci manca sempre qualcosa e sempre ci sentiamo insoddisfatti. Cosa ha trovato lui in quella stanza, in quel luogo se non ha trovato quell'amore, quella presenza di Dio che lo confortava e gli lo sosteneva nei momenti difficili, nei momenti della sua scelta. Lo ripagava affettivamente e lo sosteneva nella risposta che era chiamato a compiere. E poi vediamo altri oggetti. Quindi un annese di lavoro a maglia usato dalla mamma di San Gabriele, di Agnese Frisciotti. La cassettina per la toilette è appartenente sempre alla famiglia, quindi alla balia di San Gabriele, una spilla della famiglia. In alto invece troviamo un lavoro che facevano le ragazze per imparare a lavorare in uncine con il filo ed è la sorella Maria Luisa Possenti, che era la seconda mamma di San Gabriele. Questo è un piccolo lavoretto che lei aveva fatto per imparare a cucire. Poi troviamo qui, in questo quadro, la presenza di tutta la famiglia, l'albo della famiglia. Quindi il papà, la mamma, sante Possenti che è originario di Terni e lavorava per lo Stato Pontificio. Mentre a destra troviamo Agnese Frisciotti, la mamma di San Gabriele, originaria di Civitanova Marche. Loro si sono sposati a Civitanova Marche e da questa loro unione, da questa famiglia, nascono ben 13 figli, che troviamo tutti quanti qui. e 4 di questi 13 figli sono morti in tenera età, mentre gli altri sono riusciti a vivere un po' più a lungo nella loro esistenza, nella loro vita. Il fratello Michele, che qui troviamo nell'immagine, ma qui troviamo nella foto, eccola, troviamo qui il fratello Michele, che ha visto il suo fratello, Gabriele Possenti, San Gabriele, il nostro santo Gabriele, dichiarare santo. Quindi l'ha visto sia quando il Papa l'ha dichiarato beato, sia quando l'ha dichiarato santo. E qui invece troviamo l'immagine del fratello di Agnese Frisciotti, padre Giovanni Battista Frisciotti, che era guardiano, cioè superiore, del convento dei Cappuccini che si trovava a Morrovalle. E il papà, prima, tra il vario itinerario percorso che ha guidato questo figlio fino ad arrivare poi al convento dei passionisti a Morrovalle, il papà gli aveva detto di andarlo a trovare. Andato a trovare lo zio, padre Giovanni. E il nostro Francesco Possenti bada lo zio e gli racconta che ha il desiderio in suo cuore che è quello di entrare tra i passionisti. E lo zio fa di tutto per convincerlo a non entrare in convento. Tanto che gli dice che la vita dei Cappuccini è molto dura, ma quella dei passionisti è peggio. Non andare in convento. Ma lui si sente proprio chiamato a questa vita così austera, così dura, che è presentata nella figura dei passionisti, che supera anche quell'ultimo insidia. E poi, ecco, il 9 settembre del 1856 entrerà in convento e successivamente poi, con la sua professione, prenderà il nome di Gabriele della Dolorata. Andiamo ancora avanti in questo museo e qui troviamo altri oggetti. Qui abbiamo un'immagine, un fumetto della vita. Quando lui andava a scuola, vita scolastica, in cui prendeva in giro i compagni di scuola. Possiamo dire che era anche vignettista, come i vignettisti di oggi, che sui giornali mettono delle immagini goffe, prendono in giro politici o attori o personaggi famosi. Lui prendeva in giro i compagni di scuola, tirando fuori gli aspetti goffi, buffi, che avevano i compagni di scuola. Troviamo altre immagini che San Gabriele aveva tra i suoi libri, tra gli oggetti che lui aveva toccato e qui troviamo anche il giuramento nel giorno della professione religiosa in cui lui si impegna a vivere una vita di preghiera, mantenendo i voti di povertà, castità e obbedienza. Possiamo concludere questa prima parte per spiegare questi ambienti. Poi la prossima volta cercheremo anche di andare a vedere la sua stanza, quella che noi abbiamo, proprio perché vogliamo cercare di riflettere e capire quale messaggio oggi San Gabriele ci vuole dire. Che possiamo, se lui ha 24 anni, è diventato santo, questo vuole dirci che anche noi, con i nostri modi di fare, che possono essere delle volte sbagliati, o modi di fare che possono essere un po' vivaci, brillanti, particolari, tutti questi ci richiamano quindi alla possibilità che possiamo anche noi essere santi. Quindi l'invito che oggi San Gabriele ci dà a ciascuno di noi, siate santi, volete essere felici, siate santi. Non importa quante cose possiamo avere nella nostra vita, quello che è importante è avere il Signore con noi e la Vergine Maria ci aiuterà a scoprirlo e a trovarlo nella nostra vita. Buon cammino a tutti nella ricerca della felicità vera che ci dona il Signore. e la Vergine Maria ci aiuterà a scoprirlo nella nostra vita. Grazie a tutti. Grazie a tutti.